La visita del musicista Arturo Toscanini a Fiume su invito di Gabriele D'Annunzio e la costruzione del mito del poeta soldato sono soltanto alcuni aspetti che emergono dagli atti del 46esimo convegno d'Annunziano dal titolo D'Annunzio e l'impresa di Fiume, nuove indagini e testimonianze. Atti che sono stati presentati oggi in diretta sulla pagina Facebook del Centro Studi presieduto da Elena Ledda che ha illustrato il volume insieme allo storico Roberto Chiarini dell'Università di Milano, autore del libro Storia dell'Antipolitica dall'Unità ad Oggi e al cultore in storia dei nazionalismi e dell'identità all'Università La Sapienza di Roma Federico Carlo Simonelli, la cui opera d'Annunzio è il mito di fiume, riti, simboli, narrazioni e fresca di stampa. Un poeta che occupa una città al comando di una sfaccettata folla di ribelli che riunisce nazionalisti, che riunisce rivoluzionari di ogni tipo e appunto ha una campagna irredentista, affianca anche una serie di manifesti utopistici e suggerisce un nuovo modo di intendere la politica. D'Annunzio a fiume mette in atto un'impresa voluta dall'alto, ha spiegato il professore Chiarini che parlando dell'antipolitica ha detto che il VAT nella contestazione delle forme democratiche parlamentari è il personaggio eminente e primo nella storia d'Italia ad aver enunciato pubblicamente sugli organi di informazione la sua opposizione agli schemi consolidati al monopolio della casta. Non ci sono dubbi sul fatto che D'Annunzio sia nemico, giurato della democrazia parlamentare, questo non ci scorre. Il fatto che sperimenti poi certe forme che sono ibride inevitabilmente di partecipazione entusiastica di chi aderisce alla sua esperimentazione diventando protagonista direi quasi militante o militare in questo caso addirittura. E nello stesso tempo che l'esito di questo sia quello di non certo di creare una democrazia diretta stabile ma quello che è l'esito di tutte le forme di democrazia disintermediate e cioè fa il capo, il duce, il comandante. Il volume pubblicato con Arte della stampa è riperibile presso la sede del Centro Nazionale di Studi d'Annunziani e a partire dal mese di giugno sarà online sul sito istituzionale. Il volume pubblicato con Arte della stampa è un'esito.